UbiBank ha chiuso il primo semestre con un utile contabile di 208,9 milioni di euro. I risultati consolidati includono a partire dal 1 aprile 2017 le tre banche acquisite, Banca Etruria, Banca Marche e Carichietti. L'utile netto delle poste non ricorrente di 22,1 milioni di euro e rappresenta il miglior risultato degli ultimi dieci anni. Per quanto riguarda invece il secondo semestre l'utile netto è di 91,2 milioni di euro. È ovviamente una performance che va tenuta nel tempo ma ci sembra che ci siano tutte le componenti per poterla mantenere. Le tre banche che abbiamo acquisito ormai sono perfettamente integrate all'interno del nostro gruppo. Certo esistono dei margini di miglioramento e sono quelli che sostanzialmente ci permettono di guardare con una certa tranquillità al futuro ma complessivamente la parte straordinaria della progettazione è stata completata. A seguito della presentazione della relazione finanziaria semestrale di UbiBank il direttore della macroarea territoriale Lazio, Toscana ed Umbria Silvano Mannella ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti nel primo semestre nelle tre regioni del centro Italia. Nei primi sei mesi del 2018, ha dichiarato Silvano Mannella, UbiBank ha rafforzato il presidio nei territori della macroarea dove sono oltre 540.000 i clienti che possono contare su 266 sportelli ed 8 centri in presa. Nel perimetro della macroarea nei primi sei mesi dell'anno sono stati erogati finanziamenti per 502 milioni di euro con una crescita del 18,4%. In questa linea, conclude il direttore della macroarea territoriale, prosegue anche l'andamento in crescita dell'attività nella provincia di Arezzo.